grazie a tutti i messaggi oggi sta molto meglio comunque da quella che mi ha descritto è molto più probabile sia un problema alle orecchie dato che ho avuto notite a entrambe le orecchie appena finito la terapia col tobra l'ex perché ho avuto notite allucinante a entrambe le orecchie quindi è molto probabile che sia un problema alle orecchie almeno da quello come avete cioè l'arba apprenso più plausibile in più oltretutto mi sono svegliata due giorni fa con un torcicollo incredibile e niente ieri mi sono svegliata con tutti questi sintomi strani che ho mai avuto in vita mia è molto probabile quindi che sia tutto collegato alle orecchie soprattutto per la cervicale e tutto quindi se non mi passa andrò a farmi controllare ma sto già molto meglio oggi non vi preoccupate comunque non sto per morire cioè sono stata malissimo ieri però mo che sono andata a leggermi tutti i sintomi è al 99% una labirintite anche perché ho problemi alle orecchie da sempre infatti ho appena passato un'otite di due settimane ho fatto la cura a entrambe le orecchie perché avevo a tutte e due le orecchie molto probabilmente al posto di un'otite ho avuto una labirintite ecco perché ieri mi mancava l'equilibrio ed ero tutta assorbita cioè al primo acchietto ho pensato di aver perso una botta in testa perché ho detto come cazzo sto cioè invece molto probabilmente problema le orecchie comunque se non si risolve andrò da un motorino da ringoiatra questa settimana ma sto già molto meglio oggi e prendi tutte le droghe poi non scordi le brave prendi tutte le giornate poi trasforma le nuove prendi tutti i soldi poi moltiplica per nave prendi una per 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 prendi una lambe falle e fare i scrischi